1. Era il giorno del matrimonio di Wang Lung. 2. Aprendo gli occhi nel buio creato dalle tende attorno al suo letto, per un istante non riuscì a capire come mai l'alba apparisse diversa da ogni altra. La casa era immersa nel silenzio e si sentiva solo il tossire debole e affannato del vecchio padre, la cui camera stava di fronte alla sua, al di là della stanza centrale. 3. Ogni mattina la tosse del vecchio era il primo suono che si udiva, in genere Wang Lung rimaneva disteso ad ascoltarla e si muoveva solo quando la sentiva avvicinarsi, prima quella e poi lo scricchiolio sui cardini di legno prodotto dalla porta della stanza di suo padre. 4. Quella mattina, però, non attese, balzò su e spinse di lato le tende attorno al letto. Era un'alba scura, vermiglia e il cielo di bronzo splendette un istante attraverso il piccolo buco quadrato di una finestra, dove un brandello di carta svolazzava. 4. Wang Lung si avvicinò al buco e strappò la carta. 5. È primavera e non mi serve, mormorò. Si vergognava di esprimere ad alta voce il desiderio che la casa quel giorno apparisse ordinata. Il buco era grande appena da far passare la sua mano e lui la spinse fuori per sentire l'aria. 6. Un venticello lieve soffiava gentile da oriente, un vento mite e frusciante, carico di pioggia. Era un buon segno. I campi avevano bisogno di acqua che li fecondasse. Quel giorno non avrebbe piovuto, ma nel giro di pochi giorni, se il vento non fosse cessato, l'acqua sarebbe arrivata. Questo era bene. 7. Il giorno prima aveva detto al padre che se quel sole sfacciato e sfolgorante avesse continuato a splendere, il grano non avrebbe spiegato. Adesso era come se il cielo avesse scelto quel giorno per augurargli il meglio. La terra avrebbe portato frutto. 8. Mentre ancora si infilava i calzoni azzurri e legava attorno alla vita piena la cintola di cotone azzurro, Wang Lung si precipitò nella stanza centrale. Lasciò il torso scoperto fin quando non ebbe scaldato l'acqua per lavarsi. Entrò nella rimessa attaccata alla casa che faceva da cucina e nella semi-oscurità un bue girò la testa dietro l'angolo accanto alla porta e la chinò profondamente davanti a lui. 9. La cucina era fatta con mattoni di terra cruda come la casa, grandi riquadri di terra prelevata dai loro campi e ricoperti con la paglia del loro grano. Con quella terra suo nonno in gioventù aveva fabbricato anche il forno cotto e annerito nel corso dei tanti anni in cui era servito a cucinare i cibi. 10. Sopra quella costruzione di terracotta era appoggiato un alto e tondo calderone di ferro. Wang Lung lo riempì in parte con l'acqua che attinse da un orcio lì accanto utilizzando una mezza zucca vuota, ma con parsimonia perché l'acqua era preziosa. 11. Poi dopo un istante di esitazione sollevò ad un tratto il recipiente e svuotò tutta l'acqua nel calderone. 12. Quel giorno avrebbe lavato l'intero corpo, nessuno l'aveva più guardato dai tempi in cui era bambino e sedeva in grembo la mamma. 13. Ma oggi qualcuno l'avrebbe fatto e lui voleva che fosse pulito. Girò attorno al forno, sul retro e dopo aver preso una manciata dell'erba e degli steli secchi che stavano nell'angolo della cucina, 14. La dispose con delicatezza nella bocca del forno, utilizzando al meglio ogni foglia. 15. Poi, con una vecchia pietra a focaia e un ferro, catturò una fiammella e la infilò nella paglia che divampò. 15. Era l'ultima mattina che doveva accendere il fuoco. L'aveva fatto ogni giorno da quando sua madre era morta sei anni prima. 16. Accendeva il fuoco, faceva bollire l'acqua e la versava in una ciotola per poi portarla nella stanza dove suo padre stava seduto sul letto. 16. Tossendo e cercando a tentoni le scarpe sul pavimento. 16. Ogni mattina, durante quei sei anni, il vecchio aveva aspettato che il figlio gli portasse l'acqua calda per alleviare la sua tosse mattutina. 16. Adesso padre e figlio avrebbero potuto riposare. Stava per arrivare in casa una donna. 17. Wang Lung non si sarebbe mai più dovuto alzare all'alba estate e inverno per accendere il fuoco. 17. Sarebbe potuto stare disteso a letto ad aspettare. 18. E anche a lui sarebbe stata portata una ciotola d'acqua e se la terra fosse stata generosa nell'acqua ci sarebbero state anche delle foglie di tè. 19. Certi anni un tempo era stato così. 20. E se la donna fosse stata stanca per accendere il fuoco ci sarebbero stati i suoi figli, i molti figli che lei avrebbe dato a Wang Lung. 20. Al pensiero dei figli che correvano dentro e fuori dalle loro stanze, Wang Lung si fermò. 21. Tre stanze erano sempre parse troppo per loro due. La casa era semivuota dopo la morte di sua madre. 22. Avevano dovuto costantemente resistere alle insistenze dei parenti che vivevano in spazi più affollati, lo zio con la sua sterminata figliolanza che cercava di blandirlo. 22. Ma come possono due uomini soli aver bisogno di tanto spazio? Padre e figlio non possono dormire insieme? Il calore del corpo giovane lenirà la tosse del vecchio. 23. Ma il padre rispondeva sempre. Sto conservando il letto per mio nipote. Sarà lui a scaldarmi le ossa in vecchiaia. 24. Adesso i nipoti sarebbero arrivati, nipoti su nipoti, e avrebbero dovuto mettere letti lungo le pareti e nella stanza centrale, e la casa sarebbe stata piena di letti. 25. La vampa nel forno smorì, mentre Wang Lung pensava a tutti i letti che ci sarebbero stati nella casa semivuota, e l'acqua nel calderone cominciò a raffreddarsi. 25. La figura indistinta del vecchio apparve sulla soglia, stringendosi al corpo gli indumenti sbottonati. Tossiva e sputava, respirando con affanno. 26. Com'è che non c'è ancora acqua per scaldarmi i polmoni? Wang Lung lo guardò fisso e tornò al presente imbarazzato. 27. Gli sterpi sono umidi, mormorò da dietro la stufa, il vento umido. 28. Il vecchio continuò insistentemente a tossire, e non smise fin quando l'acqua non bollì. 29. Wang Lung ne versò un po' in una ciotola, e poi, dopo un momento, aprì un barattolo smaltato che stava sopra un ripiano della stufa. 29. Ne prese una dozzina di foglie secche e arrotolate, e le sparse sulla superficie dell'acqua. 29. Il vecchio aprì avidamente gli occhi, e subito cominciò a lamentarsi. 30. Perché sei così sprecone, bere tè? È come mangiare argento! 30. Il giorno è arrivato, rispose Wang Lung con una breve risata. 30. Mangia, è sì contento! 31. Il vecchio ferrò la ciotola con le dita nudose e raggrinzite, borbottando ed emettendo lievi grugniti. 31. Osservò le foglie aprirsi e allargarsi sulla superficie dell'acqua, senza trovare il coraggio di bere il prezioso liquido. 31. Si raffredderà, disse Wang Lung. 31. Vero, vero, disse preoccupato il vecchio, cominciò a sorbire grandi sorsi di tè a caldo. 31. Una soddisfazione animale, si impadronì di lui, ed era come un bambino ipnotizzato dall'atto del proprio nutrirsi. 32. Ma non era tanto dimentico di sé da non vedere Wang Lung, che versava sconsideratamente l'acqua dal calderone in un'alta tinozza di legno. 33. Sollevò il capo e guardò fisso il figlio. 34. C'è abbastanza acqua adesso da far maturare un campo, disse all'improvviso. 34. Wang Lung continuò a versare l'acqua fino all'ultima goccia e non rispose. 35. Adesso basta, esclamò ad alta voce il padre. 36. Non ho lavato nemmeno una volta il mio corpo dopo capodanno, disse Wang Lung. 36. Si vergognava di dire al padre che desiderava avere il corpo pulito ora che l'avrebbe visto una donna. 37. Si allontanò in fretta portando la tinozza nella sua stanza. 37. La porta era fissata malamente a una cornice di legno storta e non chiudeva bene e il vecchio barcollò fino alla stanza centrale e accostò la bocca all'apertura e sbraitò. 38. Andrà male? Si abitueremo la donna a questo andazzo. Tè nell'acqua del mattino e tutto questo lavarsi. 39. E solo un giorno, gridò Wang Lung e poi aggiunse, butterò l'acqua sulla terra quando avrò finito e non andrà tutta sprecata. 39. Il vecchio non replicò nulla e Wang Lung slacciò la cintola e si svestì. 39. Nella luce che in forma di quadrato si riversava dal buco, prese un piccolo asciugamano tirandolo fuori dall'acqua fumante, lo strezzò e si mise a sfregare con vigore il corpo scuro e snello. 40. Nonostante l'aria gli fosse parsa calda, ora che la sua carne era bagnata sentì freddo e si mosse velocemente immergendo l'asciugamano nell'acqua e tirandolo fuori finché dall'intero corpo non salì una nuvola leggera di vapore. 41. Poi si avvicinò a una cassetta che era stata di sua madre e ne trasse un abito pulito di cotone azzurro. 42. Avrebbe avuto forse un po' di freddo quel giorno senza l'imbottitura del vestito invernale, ma all'improvviso non sopportava l'idea di accostarlo alla propria carne pulita. 43. La fodera era strappata e sudicia e dai buchi spuntavano ciuffi di imbottitura grigia e infeltrita. 43. Non voleva che la donna lo vedesse per la prima volta con l'imbottitura che spuntava fuori dai vestiti. 44. In seguito avrebbe dovuto lavare e rammendare, ma non il primo giorno. 45. Sopra la casacca e i calzoni di cotone azzurro mise una lunga veste della medesima stoffa, l'unica sua veste lunga che indossava solo nei giorni di festa, una decina di giorni all'anno e in tutto. 46. Poi, con dita rapide, disfece la lunga treccia che gli pendeva sulla schiena e dopo aver preso dal cassetto del tavolino traballante un pettine di legno, cominciò a pettinarsi. 47. Il padre si avvicinò di nuovo e accostò la bocca alla fessura della porta. 48. Non avrò niente da mangiare oggi, si lamentò. Alla mia età le ossa sono acqua al mattino, finché non ricevono cibo. 49. Sto arrivando, disse Wang Lung, annodando rapidamente in una liscia treccia e capelli, insieme a un cordoncino di seta nera con le nappine. 49. Poi, dopo un momento, si tolse la lunga veste e avvolse la treccia attorno al capo e uscì reggendo la tinozza dell'acqua. 50. Aveva completamente dimenticato la colazione. Avrebbe mescolato un po' d'acqua alla farina di frumento e l'avrebbe data al padre, quanto a sé non avrebbe mangiato. 50. Un passo vacillante portò la tinozza alla soglia e versò l'acqua sulla terra, proprio vicino alla porta, e facendolo ricordò che aveva utilizzato tutta l'acqua del calderone per il bagno e avrebbe dovuto accendere il fuoco un'altra volta. 50. L'ho invaso un'onda di rabbia nei confronti del padre. 51. Quella vecchia zucca pensa solo al suo bere e mangiare, mormorò verso la bocca del forno, ma non disse niente ad alta voce. 52. Era l'ultimo mattino in cui doveva preparare il cibo per il vecchio. 53. Mise nel calderone un po' d'acqua che aveva attinto col secchio dal pozzo vicino alla porta e l'acqua bollì rapidamente e lui mescolò il cibo e lo diede al vecchio. 53. Questa sera mangeremo riso, padre, disse. Intanto qui c'è del grano. 54. Il riso nel cesto è quasi finito, disse il vecchio, sedendosi al tavolo nella stanza centrale e rimestando con le bacchette la densa pappa gialla. 54. Vuol dire che ne mangeremo un po' meno alla festa di primavera, disse Wang Lung, ma il vecchio non sentiva, sorseggiava rumorosamente il contenuto della sua ciotola. 54. Wang Lung andò allora nella sua stanza e indossò nuovamente la lunga veste azzurra e sciolse la treccia. 55. Si passò la mano sulla fronte rasata e sulle guance. Forse avrebbe dovuto rasarsi un'altra volta. 55. Non era ancora giorno fatto. Poteva passare dalla via dei barbieri e farsi rasare prima di andare nella casa dove la donna lo stava aspettando. 56. Ma se aveva i soldi l'avrebbe fatto. Prese dalla cintola una borsetta unta di tessuto grigio e contò i soldi. 56. C'erano sei dollari d'argento e una doppia manciata di monete di rame. 57. Non aveva ancora detto a suo padre di aver invitato degli amici a cena quella sera. 58. Invitati erano il cugino, il figlio minore di suo zio e per amore del padre anche lo zio e ancora tre contadini vicini che vivevano nel villaggio. 58. Aveva pensato di portare quel mattino dalla città del maiale un piccolo pesce di stagno e una manciata di castagne. 59. Forse avrebbe comprato addirittura dei germogli di bambù del sud e un po' di manzo da cuocere in umido insieme al cavolo che aveva coltivato nel suo orto. 59. Ma solo se fossero avanzati dei soldi dopo aver comprato l'olio di semi e la salsa di soia. 61. Se si fosse rasato la testa forse non avrebbe potuto comprare il manzo. 61. Beh, si sarebbe rasato la testa, decise d'un tratto. 61. Senza una parola lasciò il vecchio e uscì nel primo mattino. 62. Nonostante l'alba rosso scuro, il sole stava sbocando sopra le nuvole all'orizzonte e scintillava sulla rugiada che copriva il grano e l'orzo che stavano spuntando. 62. Il contadino in Wang Lung fu distratto un istante e si chinò per esaminare le spighe che si andavano formando. 63. Erano ancora vuote e aspettavano la pioggia. 64. Annusò l'aria e guardò preoccupato il cielo. 64. Ecco la pioggia, scura nelle nuvole, pesante sul vento. 64. Avrebbe comprato un bastoncino di incenso e l'avrebbe messo nel tempietto dedicato al dio della terra. 65. In una giornata come questa andava fatto. 65. Seguì lo stretto sentiero che serpeggiava in mezzo ai campi. 65. Le mura grigie della città apparvero non molto lontane. 66. Al di là delle mura cittadine e della porta che avrebbe varcato, 66. C'era la grande casa, la casa dei Hwang, dove la donna era stata schiava fin dall'infanzia. 66. Certi dicevano, meglio vivere soli che sposare una donna che è stata schiava in una grande casa. 66. Ma quando aveva chiesto a suo padre, non avrò mai una donna, lui aveva risposto, 66. Con quello che costano i matrimoni di questi brutti tempi e il fatto che ogni donna vuole anelli d'oro e vestiti di seta 67. Prima di prendere un uomo, per un povero restano solo le schiave. 67. Allora suo padre si era mosso ed era andato alla casa dei Hwang e aveva chiesto se c'era una schiava disponibile. 67. Non troppo giovane e soprattutto non bella, aveva detto. 68. Wang Lung aveva sofferto nel sentire che non doveva essere bella. Gli sarebbe piaciuto avere una moglie graziosa per la quale gli altri uomini si congratulassero con lui. 68. Vedendo la sua espressione insofferente, il padre l'aveva investito con veemenza. 69. E cosa ce ne facciamo di una donna graziosa? A noi serve una capace di badare alla casa e generare dei figli mentre lavora nei campi. 69. E una donna graziosa queste cose le farebbe? Non penserebbe ad altro che ai vestiti intonati alla sua faccia. 69. No, no, niente donne graziose in casa nostra. Siamo contadini. 69. E poi chi ha mai sentito parlare di una schiava graziosa rimasta vergine in una casa ricca? 69. Tutti i giovani signori se ne sarebbero già saziati. Meglio essere il primo con una donna brutta che il centesimo con una bellezza. 69. Pensi che una donna graziosa troverebbe le tue mani di contadino gradevoli come le mani morbide del figlio di un ricco? 69. E la tua faccia bruciata dal sole la giudicherebbe bella come la pelle dorata degli altri che l'hanno avuta per il proprio piacere? 69. Wang Lung capì che le parole del padre erano giuste, eppure dovette lottare con la propria carne prima di riuscire a rispondere, e poi disse bruscamente 69. Almeno non voglio una donna coi segni del vaiolo o il labbro leporino. 70. Vedremo cosa si potrà avere, rispose il padre. 70. Beh, la donna non aveva i segni del vaiolo e nemmeno il labbro leporino, questo era ciò che sapeva, e nient'altro. 70. Lui e il padre avevano comprato due anelli d'argento placati in oro e degli orecchini d'argento, e il padre li aveva portati al padrone della donna come pegno di fidanzamento. 71. Oltre a questo non sapeva nulla della donna che sarebbe stata sua, solo che quel giorno poteva andare a prenderla. 72. Entrò nella fresca penombra della porta cittadina. Portatori d'acqua appena fuori andavano avanti e indietro tutto il giorno con le loro carrette e grandi tinozze cariche d'acqua che traboccava schizzando fuori sui sassi. 72. C'era sempre bagnato e fresco nell'arco della porta, sotto le spesse mura di terra e mattoni, fresco persino in una giornata estiva, tanto che i venditori di meloni posavano i loro frutti sui sassi, meloni aperti da bere nella frescura umida. 73. In quel momento i meloni non c'erano ancora, perché si era all'inizio della stagione, ma accanto alle mura c'erano cesti di piccole pesche verdi e dure. I venditori gridavano, le prime pesche di primavera, le prime pesche, compra, mangia, purgati le budella dai veleni dell'inverno. 74. Wang Lung si disse, se le piacciono gliene comprerò una manciata quando torneremo. Faticava a rendersi conto che quando fosse uscito dalla porta della città una donna avrebbe camminato dietro di lui. Superata la porta, girò a destra. 75. E un istante dopo fu nella via dei barbieri. C'erano poche persone prima di lui, in giro così presto, solo alcuni contadini che avevano portato i loro prodotti in città la notte prima di vendere le verdure ai mercati all'alba e ritornare poi per la giornata di lavoro nei campi. 75. Avevano dormito, tremando dal freddo, chini sopra i cesti che ora stavano vuoti ai loro piedi. Wang Lung li evitò per non essere riconosciuto da qualcuno perché quel giorno non voleva sentire le loro battute. 75. Lungo tutta la strada, in fila, l'uno accanto all'altro, i barbieri stavano dietro i loro banchi e Wang Lung andò da quello più lontano e si sedette sullo sgabello facendo segno all'uomo che stava chiacchierando col suo vicino. 75. Il barbiere arrivò subito e cominciò a versare rapidamente nella bacinella di ottone dell'acqua calda da un bricco che teneva sul suo bracere coi carboni. 76. Rasatura completa? chiese in tono professionale. 76. Tasta e faccia, rispose Wang Lung. 76. Pulizia di orecchie e narici? chiese il barbiere. 77. Quanto costa di più? chiese cautamente Wang Lung. 77. Quattro centesimi, disse il barbiere cominciando a passare una pezzuola nera dentro e fuori dall'acqua calda. 78. Te ne do due, disse Wang Lung. 79. Allora ti pulisco un orecchio e una narice, ribatte prontamente il barbiere. 79. Su quale lato della faccia lo vuoi? 80. Parlando fece una smorfia in direzione del barbiere più vicino che scoppiò in una risata sguaiata. 80. Wang Lung si accorse di essere finito nelle mani di un mattacchione e sentendosi come sempre inferiore alla gente di città, in qualche inesplicabile maniera, anche se si trattava solo di barbieri e persone di infimo grado, disse in fretta, d'accordo, d'accordo. 80. Poi si affidò al barbiere che lo insaponò e lo sfregò e lo rasò e siccome questo era dopo tutto un tipo piuttosto generoso, gli diede, senza pretendere altro, una serie di abili colpetti sulle spalle e sulla schiena per sciogliergli i muscoli. 80. E mentre gli rasava la parte del cranio sopra la fronte, si mise a commentare, non saresti un brutto contadino se ti tagliassi i capelli? La nuova moda non vuole più la treccia. 80. Il rasoio rimase sospeso così vicino al tondo dei capelli sulla sommità del capo che Wang Lung lanciò un grido, non posso tagliarla senza chiedere a mio padre. 80. Il barbiere rise e passò di fianco alla radice del codino. 80. Quando l'operazione fu terminata e il denaro contato nella mano rugosa e bagnata del barbiere, Wang Lung ebbe un brivido di orrore. 80. Quanti soldi! Ma trovandosi nuovamente a camminare lungo la strada, col vento fresco sopra la pelle rasata, si disse, è per una volta sola. 80. Andò poi al mercato e comprò due libri di maiale e osservò il macellaio avvolgerle in una foglia secca di loto e, quindi esitante, comprò anche sei once di manzo. 80. Quando tutto fu acquistato, compresi dei pezzi freschi di tofu tremolanti come gelatina sopra una foglia, andò nella bottega di un candelaio e comprò un paio di bacchette di incenso. 80. Poi diresse molto timidamente i suoi passi verso la casa dei Wang. 80. Arrivato al portone fu colto dal terrore. Cosa gli era venuto in mente di andare da solo? Avrebbe dovuto chiedere a suo padre di accompagnarlo, o a suo zio, o almeno al suo vicino più prossimo, Ching, o a chiunque altro? 80. Non era mai stato in una grande casa prima di allora? Come sarebbe potuto entrare col proprio banchetto di nozze appeso al braccio e dire, sono venuto a prendere una donna? 80. Rimase a lungo davanti al portone, guardandolo. Era ben chiuso. Due grandi battenti di legno dipinti di nero e fasciati di ferro e guarniti di borchie, serrati l'uno con l'altro. 81. Due leoni di pietra stavano di guardia uno per l'altro. Non c'era nessuno. Si girò per allontanarsi. Era impossibile. 82. Improvvisamente si sentì debole. Sarebbe andato prima a prendere qualcosa da mangiare. Era stomaco vuoto. Si era scordato del cibo. Entrò in una trattoria di strada e, posando due centesimi sul tavolo, si sedette. 83. Un ragazzo sudicio con un grembiule nero lustro si avvicinò a Wang Lung e gli gridò, «Due scodelle di spaghetti!» 84. E quando arrivarono li mangiò avidamente, cacciandoseli in bocca con le bacchette di bambù, mentre il ragazzo continuava a starsene là, rigirando le monetine tra il pollice e l'indice neri. 84. E vuoi ancora? chiese in tono indifferente. 84. Wang Lung scosse la testa, raddrizzò la schiena e gettò intorno un'occhiata. 85. Nella stanzetta buia affollata, piena di tavoli, non c'era nessuna faccia conosciuta. Solo pochi uomini che mangiavano o bevevano tè. 85. Era un posto per povera gente. In mezzo a loro Wang Lung appariva pulito e per bene, quasi benestante. 86. Tanto che un mendicante, passandogli, si rivolse con voce lamentosa, «Abbi cuore, maestro, e dammi qualche spicciolo! Sto morendo di fame!» 86. Non gli era mai successo che un mendicante gli chiedesse qualcosa. 86. E nessuno mai l'aveva chiamato maestro. 87. Gli fece piacere. 87. E gettò nella scodella del mendicante due monetine del valore di un quinto di centesimo, e il mendicante tirò prontamente indietro la mano, simile a un artiglio nero, e la cacciò in mezzo ai suoi stracci. 87. Wang Lung era ancora seduto e il sole si inerpicava nel cielo. 87. Il giovane cameriere gli ciondolava attorno con impazienza. 87. Se non prendi altro, disse alla fine con grande sfrontatezza, devi pagare l'affitto per lo sgabello. 88. Wang Lung si irritò per tanta impudenza e si sarebbe alzato, ma al pensiero di entrare nella grande casa dei Huang e di chiedere della donna, il suo corpo si ricoprì di sudore come se fosse al lavoro in un campo. 88. Portami del tè, disse debolmente il ragazzo. 88. Prima che potesse girarsi, il tè era già là e il ragazzino chiese bruscamente, 89. Dov'è il centesimo? 89. E Wang Lung, inorridito, capì che non poteva fare altro che estrarre dalla cintura un'altra monetina. 89. È un furto, mormorò riluttante. 89. Poi vide entrare nel locale il vicino che aveva invitato alla festa e posò frettolosamente la moneta sul tavolo e bevete un sorso il tè. 90. Uscendo rapido dalla porta laterale, si ritrovò di nuovo sulla strada. 90. Va fatto! Si disse disperato e lentamente si incamminò verso il grande portone. 90. Questa volta, siccome era passato mezzogiorno, il portone era socchiuso e il guardiano, dopo aver mangiato, se ne stava oziosamente sulla soglia, stuzzicandosi i denti con una scheggia di bambù. 90. Era un uomo alto, con un grosso neo sopra la guancia sinistra, e dal neo pendevano tre lunghi peli neri che non erano mai stati tagliati. 90. Quando Wang Lung comparve, lo apostrofò sgarbatamente perché vedendo il cesto pensò che fosse venuto a vendere qualcosa. 90. Beh, e allora? Con grande difficoltà Wang Lung rispose, sono Wang Lung il contadino. 90. Beh, Wang Lung il contadino, e allora? 90. Ribatte il custode, il quale non era educato con nessuno tranne che con i ricchi amici del suo padrone e della sua padrona. 90. Sono venuto, sono venuto, balbettò Wang Lung. 90. Questo lo vedo, disse il custode con sforzata pazienza, rigirando i lunghi peli sul neo. 90. C'è una donna, disse Wang Lung, e la sua voce incontrollabilmente si smorzò in un sussurro. 90. Nella luce del sole il suo viso era bagnato. 90. Il custode scoppiò in una grande risata. 90. Ah, allora sei tu, tuo no. Mi avevano detto di aspettarmi uno sposo oggi, ma non ti ho riconosciuto con il cesto al braccio. 90. Ma è solo un po' di carne, disse Wang Lung per scusarsi, in attesa che il guardiano lo conducesse all'interno, ma il guardiano non si mosse. 90. Alla fine Wang Lung disse con apprensione, devo andare da solo. 90. Il guardiano finse un moto di terrore. Il vecchio signore ti ammazzerebbe. 90. Poi, vedendo che Wang Lung era troppo sproveduto, disse, un po' d'argento. È una buona chiave. 90. Wang Lung capì finalmente che l'uomo voleva dei soldi. 90. Ma sono povero, disse in tono supplichevole. 90. Fammi vedere cos'hai nella cintura, disse il guardiano. 90. E soghignò quando Wang Lung nel suo candore mise davvero il cesto sulle pietre e sollevando la veste tirò fuori il sacchetto dalla cintola e lasciò cadere sulla mano sinistra ciò che era rimasto dopo gli acquisti. 90. C'era una moneta d'argento e 14 monetine di rame. 90. Io mi prendo l'argento, disse freddamente il guardiano, e prima che Wang Lung potesse protestare, l'uomo aveva infilato l'argento nella manica e, superando a grandi passi il portone, gridava, lo sposo, lo sposo! 90. Wang Lung, nonostante la rabbia per quel che era appena successo e il terrore nel sentire annunciare a gran voce il suo arrivo, non poteva fare altro che seguirlo, e così fece, sollevando il cesto e senza guardare né a destra né a sinistra. 90. In seguito, benché fosse la prima volta che si trovava nella casa di una grande famiglia, non riuscì a ricordare niente. 90. Con il viso in fiamme la testa china camminò attraverso una corte dopo l'altra, sentendo la voce tonante davanti a lui e risatine tintinanti su ogni lato. 90. Poi, all'improvviso, quando gli sembrava di avere attraversato un centinaio di corti, il guardiano tacque e lo spinse in una piccola sala d'attesa. 90. Là, Wang Lung rimase solo, mentre l'uomo entrò in un locale interno da cui tornò un momento dopo e disse «Anziana padrona, dice che devi presentarti davanti a lei». 90. Wang Lung fece per muoversi, ma il guardiano lo fermò esclamando inorridito «Non puoi presentarti davanti a una grande signora con un cesto sul braccio». «Un cesto di maiale e tofu, come ti inchineresti». «Vero, vero», disse Wang Lung agitato, «ma non osava posare a terra il cesto perché aveva paura che potessero rubarne qualcosa. Non si rendeva conto che il resto del mondo poteva non desiderare simili le cornie, cosa che erano per lui due libri di maiale, sei once di manzo e un pesciolino di stagno». Il guardiano vide la sua paura ed esclamò con profondo disprezzo «Quì, in questa casa, nella carne così la diamo ai cani». E afferrando il cesto lo cacciò dietro la porta e spinse Wang Lung davanti a sé.